Amore è una parola che nella nostra cultura ha quasi perso il suo significato. C'è una storia molto interessante riguardo al rabbino Cozzi. Egli incontrò un ragazzo che si stava godendo il suo piatto di pesce e disse al ragazzo, perché stai mangiando quel pesce? E il ragazzo rispose, perché amo il pesce? E lui rispose, oh, ami il pesce. Ed è per questo che l'hai tirato fuori dall'acqua, l'hai ucciso e l'hai bollito. Non dirmi che ami quel pesce, tu ami te stesso. E visto che ti piace il suo sapore, allora l'hai tirato fuori dall'acqua, l'hai ucciso e l'hai bollito. Quindi, molto di quello che noi crediamo amore, è amore per il pesce. È come quando una giovane coppia si innamora. Cosa significa se un ragazzo è innamorato o una ragazza è innamorata? Significa che il ragazzo vede nella ragazza qualcosa che può soddisfare tutti i suoi bisogni fisici ed emotivi. E la ragazza vede nel ragazzo qualcosa che lei pensa sia quello è amore, ma amore dei propri bisogni. Non è amore per l'altra persona. L'altro diventa uno strumento per la propria personale gratificazione. Troppo spesso, quindi, quello che chiamiamo amore in realtà è amore per il pesce. Un amore vero non si basa su ciò che sto per ricevere, ma su quello che sono in grado di dare. La gente commette un grave errore, pensando che si doni a chi si ama. La risposta, la vera risposta è si amano coloro a cui si dona. Il punto è, se io do qualcosa a te, io sto dando me stesso a te. E dato che amare se stessi è un dato di fatto, ognuno ama se stesso e ora che quella parte di me fa parte di te, c'è una parte di me in te che amo. Quindi l'amore vero è quello che dona, non quello che riceve. Grazie a tutti.